Ciao a tutti, stamattina siamo venuti lì un'altra volta a provare il nostro soup, però abbiamo lui. Il buongiorno ve lo dà così. Cos'è? Ehi, stiamo già nell'acqua. Aspetta. Voilà. Vai. Oh, che bello salvaggianto. Oh, che bello? Pek, pek, vieni qua. Vieni. Vai. 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 Viamo cedì. Vieni. Vai. bravo fermo è ora beh dai per essere il primo approccio ci è salito da solo via esco di insola torniamo in là dai andiamo e di che galleggi di qua te di qua dove vai a largo andiamo oh viaggia come un treno guardalo bravo Teddy vieni tanto la mamma è tranquilla oh amo ormai ormai va da se Teddy aspetta vieni qua Teddy bravo aspetta qua la mamma cosa dici bravo bravo Tuff! Teddy, dov'è la mamma? Vieni un po' che... Guarda, vai dalla mamma, vai dalla mamma, forza! Amo! Sì, vai, sali! Vieni, Teddy! Teddy, vieni qua! Vai! Vai! Bravo, amore, bravo! Bravo, bravo! Bravo, Tuff! Bravo! Bravo davvero, eh! Doctor Taff! Taffè Taffè Tag Questa Tric Vieni Questa Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Adesso devo rientrare a cercare le meduse. Allora dici si fa il caffè? Facciamo il caffè. Teddi te lo vuoi? Ma che diso. Vediamo Teddi che si fa il caffè. Vieni. La macchina. Allora ci voglio. Oh Teddi fermo c'è da far caffè. Aspetta devi trovare prima il posto lui. Ecco Ciccia qua. No non dici caldo. Vabbè si mette. Dove si fa il caffè intanto? Dentro qua? Cos'è ci hai messo? La cialda? La cialda. Basta. Chiuri. Questa qui. Basta. Me ne ha messo ancora il nostro. Acqua. Ciccia qua. Chiudo. Ora. Deve prima scaldare l'acqua. E poi? Dai Teddi. Quando l'acqua è scaldata parte il caffè. Teddi. Ma l'asciugamano dove l'hai messo Teddi? Ogni volta. E' questa storia. Alza le zampe. I sali di lena. Un'altra volta. Stanto il caffè. E' lì che va. C'è da fare un lavaggio di tutto. Quando arriviamo a casa con salvagente fa schifo. A questo giro oltre che lavare la tavola ci sta da lavare il cane, ci sta da lavare il salvagente del cane. Qualche asciugamano in più. Cinque. Perché sono due. Tanta roba. Tutto. Adesso lui si agita. Chi hai visto? Altri cani. Un canino. Un canino. Un canino. Ma nessuno che va sulla tavola. Comunque io ho avuto la dimostrazione che bisogna prenderci bene ma molto bene la mano. perché con questo leggerissimo vento che proprio è basso eh. Vai e non torni più. Ci si mette un attimo. Guardavo le meduse e mi sono ritrovato laggiù. Poi bisogna tornare eh. Oh ma è la seconda volta che si fa eh. Sì. Insomma mi sembra di fare anche tanto. In più con Teddy oggi. Oh oggi con Teddy è stato bello. Ieri Teddy che si vede. Non pensavamo eh che fosse facile così invece. No ma appena ha visto la tavola ci hai montato subito da solo. E' stato bravissimo. Il cuore suona. Apri te. Il caffè. Apri io va. Apri te va. E' più sicuro che io vado il maialino. Allora. La macchetta suonata vuol dire che il caffè è pronto. Basta prenderla. Basta. Voilà. Voilà. Meglio di così. Tazza. E' anche buono. E vogliamo ricordarvi che se andate sul sito della Conquemco. Potete acquistarla anche voi. Con il codice Coppia Avventura. Con il 20% di sconto. C'è lo sconto. Più di così. Comunque ragazzi è bomba questa macchinetta. Cioè veramente la porti ovunque. Bene bene bene. Bene bene bene. Buon caffè a tutti. Sì. Dai. Non è da solo. Lei ce la vuole. Guarda. Guarda c'è l'alba. Oh. Ora si è meglio eh. No. No. C'è? 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 Oh te. E mamma mi sembra di aver visto un canino là giù. Ecco. Fai tutto sto casino poi ti metti lì. E allora che tutti arrivano. Noi ce ne andiamo. Si. sulle 10 e mezzo piano di gente che sta arrivando al mare traffico caldo adesso proviamo a fare una manovra di quelle magiche lui si va via quindi eccolo eccomi è stanco lui è ha nuotato ha fatto un sacco di cose niente quindi noi andiamo a casa a sistemare tutte le cose a lavare tutto come abbiamo detto e ci vediamo alla prossima però prima devo fare colazione come da tradizione ah già si si colazione per fare colazione che te? no lui è stanchissimo è stanchissimo ciao a tutti ciao